Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Accademia dei Test. Oggi parleremo del moto uniformemente accelerato. Il moto uniformemente accelerato è un moto in cui l'accelerazione si mantiene costante. Ricordando che l'accelerazione è un vettore, per essere costante devono essere costanti le sue elementi, dunque il modulo, la direzione e il verso. Difatti il moto uniformemente accelerato è un moto rettilineo in cui si immagina un punto materiale che si muova con un'accelerazione costante. L'accelerazione si definisce come il rapporto tra la variazione di velocità e la variazione di tempo. Immaginando l'istante iniziale pari a zero e la velocità iniziale di questo punto anche pari a zero, questa equazione assume la formula più semplice, a uguale v fratto t. Determinando la sua formula inversa, possiamo ottenere la velocità come variabile indipendente in funzione del tempo. In questo caso, v uguale a per t ci ricorda l'equazione di una retta in cui la velocità corrisponde alla y, il tempo corrisponde alla x e l'accelerazione non è nient'altro che il coefficiente angolare di questa retta. In una rappresentazione cartesiana, la velocità sta sulle ordinate, il tempo sulle ascisse, otteniamo una retta in cui a, cioè l'accelerazione, ne rappresenta il coefficiente angolare. Questa è la legge oraria della velocità. Quindi la legge oraria della velocità mette in relazione velocità con il tempo. Non è però la legge oraria più famosa di questo moto, nemmeno la più utilizzata, perché la legge oraria classica è quella che pone in relazione lo spazio con il tempo. Quindi nel moto infermamente accelerato dobbiamo chiederci, ma come varia lo spazio in funzione di un'accelerazione, quindi di una variazione di velocità costante? Con dei passaggi matematici si arriva alla definizione della legge oraria del moto infermamente accelerato. S di T, quindi la posizione del nostro punto nel momento T, è data da S con 0, ovvero la posizione del nostro punto nell'istante 0, nell'istante di partenza, più V con 0 per T, quindi la velocità del punto nell'istante 0, moltiplicata per il tempo T, di cui vogliamo conoscere la posizione relativa, più un mezzo A per T al quadrato, dove A rappresenta l'accelerazione. Questa è fondamentale, è la legge oraria generica del moto rittilinio uniformemente accelerato. Guardatela da un punto di vista matematico. Questa corrisponde alla rappresentazione analitica della parabola. S con 0 rappresenta quello che si chiama C in geometria analitica. V con 0 per T sarebbe la nostra B di X e un mezzo A per T al quadrato sarebbe AX al quadrato, dove C, B e A sono rispettivamente i coefficienti dei termini di grado 0, quindi il termine noto di primo grado e di secondo grado. Rimemorizzarla così aiuta molto ad associarla al grafico e anche a ricordarne la semplice espressione analitica. Infatti, rappresentando sul grafico la legge oraria che descrive il moto di un punto in un modello uniformemente accelerato, si ottiene un ramo di parabola. Ricordando sempre che lo spazio è al posto delle ordinate e il tempo al posto delle ascisse. Piccola nota. Se volessimo conoscere il valore dell'accelerazione istantanea in un punto generico, per esempio nel punto P, la velocità istantanea di P si ottiene, scusate, l'accelerazione ovviamente, stiamo parlando di accelerazione, l'accelerazione istantanea di P si ottiene come derivata prima in funzione della velocità, in funzione del tempo. Dal moto uniformemente accelerato si ricavano due modelli di grande utilità pratica che sono la caduta dei gravi ed il lancio in verticale. Guardiamo come si trasforma la legge oraria in caso di considerare l'istante 0 e la velocità iniziale pari a 0. Dunque immaginiamo un punto che parta dall'origine degli assi con velocità iniziale nulla e spostamento iniziale pari a 0. La legge oraria assume la sua forma più famosa probabilmente cui S è uguale a un mezzo A per T al quadrato. Questa è probabilmente la più conosciuta e quella che è necessario memorizzare insieme alla formula generica. Per questo argomento è tutto. Nel prossimo video parleremo della caduta dei gravi e del lancio in verticale.